Cosa succede quando alunni e docenti sono accomunati dall'entusiasmo per il teatro? Dal desiderio di mettersi in gioco per condividere questa passione in un contesto diverso dal quotidiano? Nasce School Act! E io l'ho sempre detto? E io l'ho sempre saputo da quando sono entrata che tu l'avevi sempre detto. Ma senti, quante volte provano? Ogni tre giorni un paio d'odore. Ma dico, ma le hai sentite? Dovrebbero provare tutti i giorni, assolutamente. Eh, ci so quali, eh. E senti, sei sicura che possano cantare meglio? Peggio penso sia difficile. E io l'ho sempre saputo da quando sono entrata che tu le sei. Grazie a tutti. 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 Tu cha, tu cha, tu cha, tu cha. Tu cha, tu cha, tu cha, tu cha, tu cha, tu cha. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.